È un terziario con il fiato sospeso, quello che emerge dall'ultima indagine condotta da Format Research per Conf Commercio Toscana per tracciare un consuntivo del 2023. Le imprese toscane di commercio, turismo e servizi stanno provando a reagire con tutte le loro forze, nonostante le nubi che oscurano il quadro macroeconomico internazionale. Ma i segnali della crisi ci sono. Diminuisce il saldo tra aziende nuove nate e cessate, si riducono ricavi ed occupazione, cala ovviamente la fiducia nell'andamento dell'economia e della propria attività, riassume il direttore generale della Conf Commercio Toscana, Franco Marinoni. La situazione è cambiata dal secondo semestre 2023 dopo gli effetti euforici della ripresa post-pandemica. La previsione degli operatori per il primo semestre 2024 è di sostanziale stabilità con cenni di cauto ottimismo, soprattutto nei comparti turismo e ristorazione, che confidano nell'arrivo della bella stagione dei turisti internazionali per riprendere lo slancio, ma preoccupare anche la difficoltà dell'impresa a far fronte al proprio fabbisogno finanziario e allo stesso tempo ricorrere agli istituti di credito. Il terziario in Toscana rappresenta il 66% delle oltre 281.000 aziende extraagricole attive a livello regionale. Nel confronto 2023-2022 è leggermente aumentato il numero delle nuove imprese iscritte agli elenchi camerali, ma è aumentato anche quello delle cessazioni. La nata immortalità presenta dunque un saldo negativo in peggioramento rispetto al 2022.